Il Boletus estivalis, conosciuto volgarmente con diversi nomi, è un fungo molto saporito che cresce in un periodo che va dalla tarda primavera fino alla fine dell'estate. Uno dei caratteri morfologici che lo differenziano da altri porcini è la cuticola del cappello che si screpola con grande facilità anche a causa delle temperature elevate del periodo esistivo nonché dell'esposizione prolungata al sole. È un fungo ben noto ai fungaioli per l'estrema facilità con cui viene attaccato dalle larve. Grazie. 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 Grazie.